Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò dove si troveranno le due nuove falene lucenti di questa settimana nel Trono Mondo di Sabatun. La prima falene lucente la troverete nel settore Miasma. Vi basterà soltanto arrampicarvi sopra un albero e riuscirete a recuperarla. Per la seconda falene lucente dovrete partire da Pantano e passare il Tempio dell'Irraconda. Una volta arrivati a destinazione dovrete uccidere tutti i nemici infami e riuscirete a prenderla. E niente ragazzi per questa settimana è tutto. Le falene erano queste due. Spero di esservi stato di aiuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Spero di esservi stato di aiuto. Spero di esservi stato di aiuto. Spero di esservi stato di aiuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.